vi inizio a presentare chi sono per chi non mi conosce sono mozilla tech speaker e quindi giro un po per conferenze per fare un po di evangelism sulle tecnologie di mozilla tutto open source tutto gratuito quindi non vi preoccupate non vi venderò nulla sono uno sviluppatore ahimè full stack anche se sono prestato mi piacerebbe fare solo back end ma sono prestato anche al front end e ovviamente sono un amante dell open source e tutte le tecnologie andiamo avanti chissà cos'è la web vr facilissimo virtual reality sul web una cosa semplicissima da dire da immaginare ma difficilissima da fare per n motivi n motivi vuol dire ce ne sono parecchi uno di questi è perché ovviamente la internet si basa su un concetto di low friction cioè bisogna è una cosa nella quale ci si entra e poi con pochissimi passaggi senza dover neanche studiare non c'è un libretto di istruzioni di internet ok è un posto proprio a bassissima frizione e invece fare la virtual reality è qualcosa che si fa che purtroppo ha un'altissima frizione nel senso che ha tantissime barriere all'ingresso sì se non si vede bene ma tanto questa è una piccola quote di josh carpenter che è poi tra l'altro l'head manager del design per per la web vr di mozilla per il team della via perché è difficile perché per l'appunto tutta la proposition di internet è quella di avere una bassissima frizione mentre la virtual reality c'è una tanta cosa vuol dire intanto vuol dire che questi guardate solo i device dove sono anche in crescita ci sono vabbè l'htc vive che ha già due versioni l'oculus che ne ha tre di versioni google daydream che il visorino di google c'è il samsung gear vr che ha i controller questi hanno tutti dei controller diversi immaginiamoci che il vive ha un controller con il giroscopio due controller con il giroscopio un puntatore mentre il daydream ha un telecomandino l'altro ha una cloche con il joystick quindi anche già quello immaginarsi di creare un'esperienza sul web che possa riunificare tutte queste cose era un po da pazzi poi ci sono le cardboard quelle cose che comprate 10 euro ci infilate il cellulare fate girare qualcosa in vr poi c'è ovviamente da supportare la cardboard ma il sistema operativo android e c'è la stessa cosa su ios e poi tra l'altro c'è il browser come funziona in un browser la via dentro al computer con cui navigate su internet è realmente un casino io ho provato a sviluppare con varie sdk di questi fornite da vibe o fornite da oculus sono completamente diverse una dall'altra quindi anche standardizzare sta roba diventa difficile ovviamente si crea una situazione frammentazione c'è quella cosa gira sull'oculus quell'altra su htc vibe e così via adesso c'è anche playstation insomma si iniziano essercene parecchi c'è una cosa però fortunatamente una tecnologia fortunatamente negli ultimi anni sta sviluppata molto e funziona molto bene che è webgl che fondamentalmente permette di far girare dentro al browser alcune librerie grafiche tra cui il 3d diffusissima per il 3d i giochi online 3d che vedete girano quasi su tutti grazie a webgl che ha una compatibilità come vedete questo l'ho preso da browser can i use ha una compatibilità pressacchetto tale cioè tutti i browser possono girare far girare webgl anche i browser mobile c'è opera mini purtroppo per chi pochi pochi che lo usano si trova un po ancora negli embedded ma per il resto tutti i browser lo supportano quindi cosa ha pensato mozilla ha pensato bene di utilizzare webgl brapparlo utilizzando anche altre librerie javascript che lo utilizzano a sua volta che sono 3 j s per chi la conosce che per la generazione di modelli 3d e la manipolazione in real time e poi ci sono altre tecnologie dietro che vi permettono ad esempio è stata frappata semplicemente per dargli la visione stereoscopica a 360 gradi però dentro in realtà c'è webgl quindi tutto è generato lì tra l'altro tecnologie web sono ormai ti permette di inserirci qualsiasi media video audio fotografie quindi è stato relativamente semplice di portare qualsiasi tipo di media in virtual reality una volta fatto questo cosa bisogna conoscere per riutilizzare a frame a frame è questo framework gigantesco che adesso sta diventando sempre più popolare tra l'altro lo utilizzano tantissimi hanno adottato a frame come linguaggio diciamo neutro neutrale per poter per l'appunto scriversi le roba in javascript quindi è puramente un framework javascript però in realtà utilizza un sistema di html dichiarativo quindi voi inserite un tag quel tag si trasforma in un oggetto semplice quindi il tag è cubo e si trasforma in un cubo facilissimo come costruire un sito internet fondamentalmente e ha già delle primitive che potete fondere per creare altre cose non so io ho fatto un pupazzo di neve con due sfere che si animava infatti arriva con dei blocchi che sono video sky che vuol dire insomma tutta la l'ambiente delle geometrie che sono per l'appunto triangoli cubi sfere animazioni e soprattutto un cursore per poter puntare gli oggetti di sottolineo ora il cursore che è una cosa parecchio importante soprattutto per allineare un po l'esperienza utente poi vi spiegherò perché cosa c'è dentro dentro come vi ho detto ci sono tecnologie javascript possono essere combinate anche con i vostri framework di riferimento io utilizzo tantissimo view js ma anche react però se vi piace angular poi c'è redax non so e anche jquery visto gente che conosceva ancora a menadito jquery l'utilizza per poter controllare poi le animazioni e tutto all'interno di a frame perfetto prima di farvi vedere un po cosa stavo creando qual è perché vi dico coerente creare comunque una una esperienza coerente sul web questa è una scena di a frame spero che si veda mi spiace per il nero di sfondo si dichiara con un tag a si c'è una volta incluso a frame quindi con una chiamata semplicissima html classico script creato una scena tutto ciò che dentro il tag a sin verrà renderizzato come virtual reality in virtual reality poi dentro qui c'è per esempio una sfera dove viene dichiarata la posizione della sfera nello spazio tutto è parametrico quindi una volta che è parametrico nei confronti del centro della scena stessa cosa c'è la sfera un box un cilindro in questo caso c'è un piano con un'animazione c'è lo sky che sarebbe il contorno dell'ambientazione della scena che può essere un ma anche un video un'immagine una serie di elementi ricordate tutto quello che html può essere messo lì quindi tutto quello che accetta lo standard html 5 può essere renderizzato in virtual reality da frame questo caso è un colore dichiarato color in realtà ci sono altri componenti c'è la tele la videocamera da piazzare nello spazio c'è anche movimenti controller però diciamo che questa è una scena adesso vi farete spaventare da tutti questi parametri perché ovviamente dire sì ma io come li calcolo in realtà frame ha un debugger grafico dove voi potete trascinare proprio l'elemento una volta inserito dentro senza quasi parametri poi lo potete trascinare nello spazio dove volete lui vi restituirà il blocco di codice da inserire la porzione con tutti gli attributi giusti esatti ok adesso vi faccio poi altra cosa se non esiste un'entità in a frame ovviamente vi basta il cubo volete un esedro potete crearvelo oppure ad esempio un robot io in questo caso ho fatto un piccolo robottino che accetta dei parametri custom perché il robot ovviamente non ha magari l'altezza la larghezza ma accetta non sa il numero di arti o la larghezza però segnata come tall vedi il numero si arm arms quindi si abbraccia true o false e il nome cioè gli si possono dare parametri custom e poi tramite javascript registrare un componente esattamente perché esperienza un 3 js è esattamente la stessa cosa dichiarare un componente con 3 js quindi basta dichiarargli un oggetto con lo schema e poi una callback di inizializzazione e poi la funzione che un'eventuale funzione del robottino nello spazio questo serve ad esempio per dei videogiochi e tra l'altro visto creare in questo modo qui un minecraft con 30 riga di html perfettamente funzionante in vr quindi poi poi vi lascerò qualche link se siete curiosi e questo è l'inspector di cui vi parlavo cioè cliccando come una volta inserito lo script nella pagina vi basta aprire firefox con fare ctrl alt i e vi farà vi uscirà questa finestra che è proprio un editor come vedete si trascinano gli elementi si spostano si allungano una volta fatto posizionata la vostra scena anche la telecamera l'orientamento vi fa veramente controllare qualsiasi cosa è esattamente un mini blender diciamo così una mini applicazione per fare 3d nella vr dentro al browser ha una funzione di salvataggio qui in alto adesso non si vede bene ma ci sono due funzioni una di copia una di salvataggio addirittura vi salva tutto quanto il codice generato dentro un file oppure lo potete copiare inserire solo i piccoli blocchi che vi servono ad esempio mi genero i componenti poi siccome li animo tramite javascript li tiro me li tiro dentro e li costruisco così quindi ha anche funzionalità di copia e di aggiunta blocchi insomma l'inspector è potentissimo e rispecchia al cento per cento tutto ciò che puoi fare via codice ha un registro che si chiama frame registry che in realtà è un repository pieno di librerie perché ovviamente nel 3d ci sono cose nella virtual reality che non basta farle con disegnando gli elementi ma vi servono delle librerie apposite ad esempio i particolati le più utili uso ad esempio volete inserire la pioggia o la neve o la polvere ad esempio è utilissimo avere un elemento che con un semplice tag vi renderizza la pioggia la polvere senza dovervi scrivere tutto il particolare ma ci sono tantissime cose ad esempio dentro ci sono le animazioni nelle librerie per farci il controllo per controllarlo ad esempio ce n'è una per il teletrasporto perché immaginatevi che dentro una scena via voi camminate vostro la vostra presenza nella scena comunque probabilmente camminate in un mondo anche più grande di dove siete però siete a casa vostra e sbattete sul televisore quindi per andare avanti c'è bisogno del controller che puntando un punto vi teletrasporta esattamente lì c'è una libreria per il teletrasporto ce ne sono tantissime poi ormai il progetto è bello vivo e utilizzato quindi qui dentro troverete veramente di tutto detto questo vediamo cosa ho fatto allora per creare vi parlo di frizione perché sul web siamo abituati ormai da tanto tempo e questo è dato anche dal fatto che certi pattern sono facilmente riconoscibili e abbiamo capito che l'uomo reagisce così a un certo design quando parliamo di web vr dobbiamo pensare che non tante videogiochi che vabbè non male hanno ognuno la propria meccanica quanto ad esempio la presentazione di alcune informazioni tra i primi esempi che ho visto fatti in a frame c'era un esempio di un e-commerce che con dentro il pupazzetto ti faccia vedere provandoti le scarpe come stavano al pupazzetto insieme alle magliette vestiti tutto molto bello molto carino però era veramente complesso navigarci dentro immagino un negoziante voglia vendere io poi di mestiere faccio siti web quindi so benissimo che l'e-commerce essere molto veloce essere responsivo di essere attraente e soprattutto poco complicato invece una cosa del genere ti complica perché immagino devi metterti un visore devi avere un controllo tra l'altro i pattern non li conosci molto bene non puoi applicare gli stessi pattern che applica un sito web tradizionale no quindi non sai ad esempio già solo il fatto che dici entrando in un sito web o la parte above the folder che è importantissima o i collegamenti so che il menu lo troverò in alto a destra contesto virtual reality tutto ciò non esiste quindi ho iniziato ad indagare cosa si potesse fare in tal senso ho trovato dei bellissimi articoli tra l'altro dei mozilla molto più esperti di me nel campo che hanno fatto hanno ipotizzato quali pattern del di internet utilizzati oggi nella costruzione siti web si potessero riapplicare alla virtual reality una delle cose che ho iniziato a con cui iniziato ad approcciare che mi è piaciuta tanto era quella ad esempio delle griglie la griglia una delle cose più cioè nella tipografia utilizzata da quando è nata la stampa immaginate gutenberg ha inventato la macchina da stampa e era fatta a griglie anche quella perché comunque è normale per l'uomo dover ordinare le cose no però in una in un ambiente sperico navigabile completamente tra l'altro immaginate se in una sfera fate una griglia dritta e vista di lato già l'oggetto non si vede più bene quindi sono varie difficoltà e tra l'altro la navigazione come si naviga una griglia in web via cioè se io voglio selezionare un elemento come faccio come faccio a selezionarlo voi direte sì c'è il controller però non tutti hanno il controller come abbiamo visto sono dei device che ad esempio la banalmente la cardboard non ha controller ci metti il telefono dentro e ci navighi come faccio quindi grazie a tutto questo ragionamento un po cervellotico abbiamo sviluppato questo vi faccio vedere che è un piccolo progettino un piccolo mockup di cosa di come funziona intanto state vedendo come funziona frame dentro un browser ok quindi questa la renderizzazione qui in basso a destra ci sarebbe sentate provo a farvelo vedere ci sarebbe un piccolo eccolo vedete una mascherina che è cliccata di porta a fare il 100 per cento della scena adesso vi faccio vedere che non la eh oh perfetto grazie questo vuol dire entrare in modalità VR in questo caso col proiettore ovviamente cambia ben poco però adesso possiamo navigare tutta la scena e già notiamo delle cose intanto che le schedine si girano verso di noi ovunque le puntiamo questa è una griglia classica io ho utilizzato sei immagini stupidissime prese da Beaver però vedete c'è ho creato questo cursore che puntando una scheda ve la zoom e vi fa vi da un tempo questo si chiama fuse cursor ok vi da una tempistica in modo da poter uniformare la navigazione su internet della VR sia se io ho una cardboard che se ho un controller perché col controller muoverò solo il fuse cursor lo muoverò con le mani mentre con la cardboard mi basta guardare ho il tempo quindi ho il tempo di capire che sto puntando a un elemento cliccabile e questo me la fa navigare anche solo muovendo la testa o dal web come abbiamo visto quindi usando semplicemente il mouse vedete perfetto questo è il concetto di griglia adesso vi faccio vedere però come farla quanti di voi sviluppano in javascript? ok perfetto ma non è neanche complicatissimo adesso vedrete che in realtà è una in realtà è una banalità ok cosa bisogna fare per creare una griglia come questa? intanto aggiungere degli event handlers alle immagini c'è qualcosa che quando si va sopra quella riconosca che si sta scatenando un un evento muovere la camera e nel momento in cui so che voglio andare avanti quell'elemento aggiornare la sua posizione dopo il click quindi spostare la camera in modo che sia frontale all'elemento che voglio raggiungere e aggiungere dei componenti un componente look at cioè vuol dire per gestire l'inquadratura nel qualsiasi spazio io sia le card devono guardare verso di me per poter vederne il contenuto questo elemento tra l'altro è un elemento di 3JS che ho utilizzato anche nei videogiochi quindi è mutuato completamente da lì è preso proprio da lì partiamo con la camera mi dispiace sempre questo ma si può dezoommare un po' perfetto viva gli hacker allora perfetto come vedete c'è un'entità che ho creato apposita perché è il wrapper della camera questo l'ho fatto proprio per poterci infilare dentro dei cursori e per poter fare che la camera siamo noi in poche parole ho creato un'entità che brappa tutto ho creato il cielo lo sky cioè l'ambientazione che vedete sterre in questo caso è bianca quasi bianca fa da sfondo non stiamo a guardare troppi parametri perché tra l'altro i parametri di questa roba qui come vi ho fatto vedere li ho tirati fuori semplicemente dall'editor spostando le cose quindi non è che mi sia impazzito a farle prima l'ho dichiarati e poi dopo li ho spostati ho posizionato le immagini come vedete ho creato un asset per dirgli dove è l'immagine cioè questo funziona un po' come nel 3d crea una texture e poi l'applichi all'oggetto non è proprio una vera e propria immagine quello è un oggetto piano con applicata la texture dell'immagine solo perché il 3d funziona così quindi ho dovuto creare un asset però se vedete nell'asset io ho inserito un'immagine html normale e ci potete inserire qualsiasi come vi ho detto elemento html fatto apposta per farvi sviluppare il meno possibile roba extra quindi potete usare video potete usare i tag audio tutto ciò che volete poi ho fatto un aimage che invece è un'immagine diaframe e gli ho detto cercati guarda ve l'ho sottolineati ve l'ho evidenziati gli ho detto cercati questa immagine qui che ho chiamato così semplicemente lui l'ha applicata lì sopra per il testo che come sappiamo non è un elemento html cioè il font non fa parte delle dichiarazioni html ma fa parte di css quindi è una specifica esterna ho dovuto dichiararlo come un elemento 3d a parte che si chiama text quindi che si fa tra l'altro con gli stessi font che si usano nei progetti 3d che sono i .fnt vi basta prenderli da ce ne sono tantissimi oppure con un'immagine png anche se non funziona bene questa qui è una fallback se non riesci a renderizzare il font in 3d si usa l'immagine fatto questo ho posizionato le immagini e ho creato l'immagine stessa con il font sotto con la caption poi ho preso le immagini e ho iniziato a lavorare su javascript ho creato questa griglia ho registrato un componente griglia per l'appunto e gli ho detto che deve avere come deve prendersi come camera ovviamente la main camera wrapper che è il wrapper che avevo fatto nella camera come immagini tutte le immagini che trova cioè tutti i tag i mage e poi per ogni vabbè questa è la posizione della camera sull'asse z ma è una cosa semplicissima e poi gli ho detto per ogni immagine che trovi aggiungi un ever listener che ascolta il click e fa determinate cose cosa gli facciamo fare a questo ever listener fondamentalmente gli facciamo prendere la posizione della camera quindi prende l'attributo position che era nell'html della camera vi ricordate? si prende quell'attributo lì e lo setta tramite un'animazione ci fa fare l'animazione di scorrimento alla posizione x, y e vabbè la z è una costante praticamente alla posizione x, y della camera quindi prende l'immagine sposta la camera sposta la camera alla posizione di fronte, frontale semplice tre righe di javascript fatto tutto il giochetto poi dopodiché se volete possiamo animarlo come ho fatto qui cioè ho creato un'animazione con proprietà position che fa easy queste sono tutte cose che si usano in css o in javascript normalmente e gli ho detto quando parti parti quando c'è l'evento image clicked cioè quando l'immagine viene cliccata ti fa l'animazione siamo a quante sette otto righe di codice possiamo animare anche lo spostamento ecco qui come ho fatto prima dopo avergli dichiarata nell'animazione gli ho fatto emettere image clicked cioè nel momento in cui finisce tac emetti questo evento l'animazione dentro l'html sa che appena viene messo questo evento deve fare quell'animazione lì e abbiamo collegato le due cose adesso manca solamente il look at l'effetto guardami però in quel caso come vi ho spiegato c'è un repository per l'appunto che è a registry dove io ho preso il pacchetto look at direttamente e l'ho sfruttato così gli ho fatto mettere un attributo che è look at a cosa deve guardare alla camera fine con la stessa identico elemento ho visto fare un pong imbattibile cioè che cos'è un pong imbattibile voi vi muovete avete presente il gioco pong voi vi muovete e lui vi batterà sempre perché comunque lui vi guarda con il look at non lo riuscirete mai a battere e sì ovviamente sono quelle cose useless che si fanno per capire se funziona bene tutto però era divertente adesso vi aggiungo un bonus level a tutta questa cosa che è input perché fino adesso abbiamo visto come creare l'output però l'input cioè il cursorino che in realtà fa tutta la differenza del mondo deve funzionare dappertutto quindi deve essere qualcosa di standard il fuse cursor sta diventando lo standard in materia lo usano tutti adesso google samsung chiunque faccia esperienze VR utilizza questa tecnica qui cioè il fuse cursor è un cursore per l'appunto e si carica con il tempo di solito di standard dovrebbe avere un secondo un secondo e mezzo che è il tempo di reazione che ha l'uomo per capire che sta avvenendo qualcosa quando vede girare un'animazione potete allungarlo e diminuirla a piacimento come ho fatto ho semplicemente anche qui dichiarato dentro al wrapper di prima ho fatto due nuove entità una è un cursore che per l'appunto ho chiamato fuse cursor e l'altra è un anello che è l'anello intorno che si carica semplicissimo siccome cursor è una primitiva come vi ho detto prima già esiste voi non dovete più scrivere del codice per far sì che quello sia il mouse della vostra scena tra l'altro questo è compatibile con qualsiasi device come vi ho detto prima quindi semplicemente dichiarando quello state dicendo utilizza poi la primitiva del device che stai andando quindi se è l'HTC Vibe quel cursor si muoverà con l'oscillometro dei controller se è il Google Daydream ha il pulsantiere e così via l'unica cosa che non c'è è questo anello che però per fortuna ha la primitiva a ring che quindi vi creerà un anello l'ho solo dovuto piazzare sopra il cursore quindi l'ho posizionata a manina piano piano con l'inspector è uscita fuori questa roba qui gigantesca che però non è così in realtà difficile da capire l'unica parte difficile è la parte dell'animazione ovvero che fondamentalmente ha un delay ha una durata dell'animazione come vedete di un secondo e mezzo quello che dicevo prima perché mi sembra di base forse fosse un secondo io l'ho allungato un pochettino proprio perché per darti la possibilità di capire che sta succedendo qualcosa questa è tutta animazione e poi come ho detto prima gli dichiari start event a fusing e da 0 a 360 gradi questo non fa altro che riempire il cursore da 0 a 360 quindi pieno come l'ho creata questa animazione come ho fatto di là semplicemente ho aggiunto un event listener ok ho aggiunto anche un piccolo pezzo che serve per per prendersi il dis insomma ho preso il fuse cursor ho preso ho preso come progress il fuse progress che era l'id che ho dato al ring quindi all'anello e poi ho detto aggiungi un event listener che sia fusing quando ed emetti mi fusing quando ovviamente quando incroci l'oggetto questo vi permette di fare quello che vi ho fatto vedere prima lo ricordate tutti? l'avete visto? no ok lo faccio rivedere al volo così capite di cosa sto parlando allora il fuse cursor è questo che vedete al centro ok che è questo cerchietto qui di cui ho dovuto creare solo l'anello esterno appena questo incrocia un oggetto di cui non ha già fatto fuse inquadra quell'oggetto e ve lo mette davanti quindi fa quello che abbiamo programmato in precedenza ecco qua ma adesso mi dispiace il colore di solito è giallo ma potete scegliere quello che vi pare come il colore rosso verde dipende dalla base e questa qui è la cosa che vedrete più spesso usata dentro la VR perché è la cosa più compatibile con più bassa frizione possibile per darvi un input di controllo adesso ovviamente tutto ciò che avete visto sarebbe bello vi porta ad un'esperienza d'uso tipo mouse o scorrimento ma se volessimo scrivere abbiamo mai pensato a scrivere dentro come si fa a scrivere in VR non vedete nulla è un po' difficile infatti ho parlato con Etienne che è questo ragazzo che ha creato iFrame Material che è una libreria per l'appunto per inserire Material in realtà perché è francese non sa bene l'inglese però non è material design ma è proprio materiali da utilizzare lui mi ha detto l'unica cosa in effetti che non può l'unico input che ho trovato difficile da inserire in VR è la tastiera quindi ho iniziato ad indagare su come si potesse inserire una tastiera in VR per farla essere più utilizzabile possibile da tutti su tutti i device e lui è anche recaduto sul Fuse Cursor come standard dice dovevo utilizzare qualcosa che si interfacci con quello perché è l'unico standard che veramente ci permette di controllare qualcosa e quindi se ne è uscito con un bel set di materiali che adesso non mi fa più vedere vediamo così se ne è uscito un bel set di materiali eccoli qua che sono tutti i campi di input che siete abituati a vedere sui siti internet cioè lui ha creato veramente una libreria incredibile ha sia i radio button le checkbox i button normali i campi di input text ma anche i text multiline e tra l'altro ha collegato una tastiera che tramite la sua libreria è anche configurabile nelle lingue cioè può essere una tastiera a qwerty in italiano in inglese francese la settate voi via programmazione addirittura potete fare uno switcher per farlo scegliere all'utente e l'esperienza un po' è quella di ritornare a giocare con i vecchi giochi in sala giochi dove andavate a selezionare la lettera però in maniera molto più veloce perché immaginate che la dovete solo guardare mentre con il joystick dovete farle tutte sembra un po' di tornare a giocare a meta slug e mettere il nome quando si è vinto quindi il progetto è interessante ed è attivo e io adesso lo sto iniziando ad utilizzare tantissimo perché è l'unico modo per livellare un po' l'esperienza sul web di tutto quello che avete visto oggi c'è un proof of concept su glitch se non conoscete è una piattaforma che vi permette di far girare un server node online con i vostri file in modo che tutte queste cose siano renderizzabili al volo se volete prendere appunti se no poi dopo vi lascerò anche il link alle slide o vi basta entrare su glitch e cercare a frame ci sono 200 mila esempi tra cui ne troverete qualcuno mio qualcuno di altri mozillian anche di etienne che ne fa tanti questi sono i riferimenti alla community trovate il canale slack il blog di a frame che vi aggiorna con le ultime novità chi lo sta utilizzando chi l'ha implementato c'è stack overflow dove se utilizzate il tagsa frame trovate anche me o magari se vi serve qualcosa vi rispondo lì sopra e c'è twitter che è il canale attivissimo uno dei canali più attivi di mozilla perché adesso sta andando tantissimo grazie a tutti e se avete domande tocca a voi fatele ora se no o mai più no non è vero siamo al boot se no siamo al boot e ci venite a disturbare il boot di mozilla tutto chiaro a posto grazie